Nella settimana calda del Teramo c'è attesa per la ripresa dell'Assemblea dei Soci, interrotta ma non sciolta lunedì pomeriggio. In corso di verifica, sotto la lente di ingrandimento degli amministratori giudiziari, l'evoluzione della vicenda che dovrebbe portare il club a mettere insieme tutto quanto serve per non perdere la categoria e assicurare quella continuità aziendale indispensabile per mantenere il mondo del calcio professionistico dalle parti del Bonolis. Non sarà facile, anche considerando che già al 31 maggio le società hanno dovuto depositare la copia della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre dell'anno di imposta 2020 e al secondo trimestre dell'anno 2021 copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. La situazione patrimoniale intermedia deve peraltro essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione. Il prospetto contenente l'indicatore di liquidità determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato. Questi sono alcuni dei passi propedeutici verso il 22 giugno, quando dovranno invece presentare tutte le società la domanda di ammissione al campionato di Serie C, contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale con relative garanzie fideiussorie. Intanto, dopo l'addio di Federico Guidi approdato sulla panchina giallorossa della Roma a primavera, è possibile che anche Filippo Perucchini possa presto lasciare il teramo. Era un giocatore a scadenza di contratto. Non sono un mistero i contatti con l'Ancona di Gianluca Colavitto e Ciccio Micciola, che fresco di cambio di denominazione si chiamerà infatti US Ancona, avrebbero pensato proprio all'estremo difensore del teramo e lo vorrebbero come guardiano della porta dopo l'ottima stagione disputata in Abruzzo, nella quale è stato uno dei protagonisti della salvezza. L'estremo difensore si è messo in mostra dopo l'inizio negativo di Tozzo e mano a mano ha preso la porta del diavolo per non mollarla più. Offerte che con ogni probabilità arriveranno anche per altri giocatori in scadenza. Inutile dire che uno dei più ambiti sia Andrea Rigoni, annata sensazionale la sua e che potrebbe attirare le attenzioni delle bighe del campionato. Discorso simile anche per Marco Soprano, Cristiania Ziusmanovic, Simone Rosso, mentre Codromaz, Mordini, Rossetti, De Grazia, Bernardotto, D'Andrea e molti altri torneranno alle società di appartenenza. A meno che il teramo, oltre all'iscrizione, non trovi anche poi la possibilità di trattare un nuovo contratto con questi giocatori oppure un'estensione dell'accordo temporaneo siglato in questa stagione. Ma queste sono situazioni da valutare dopo aver superato l'ostacolo principale, l'unico a cui in questo momento guarda la tifoseria.